Ringrazio il comune di Sulmona che ha lasciato le porte aperte alla mia proposta di gestione del piccolo teatro Toni del Monaco di Via Quattario, ma il mio obiettivo, come d'avviso pubblico, era la gestione dei due teatri, quindi anche del Caniglia, per un progetto artistico univoco, avvalendomi della mia carriera artistica più che trentennale, quindi nel rispetto delle parti, ritengo che non ci siano i presupposti per accettare una gestione a metà. Aguro a entrambi i teatri il meglio per la popolazione e la città di Sulmona, affinché la cultura in questo paese abbia sempre la meglio e al di là delle logiche che muovono certe scelte, lo afferma in una nota il comico e attore sulmonese Gabriele Cirilli, a seguito della notizia sulla stagione teatrale che sarà gestita da Meta. La proposta di Cirilli di portare una scuola di recitazione in città già attiva a basto prevedeva la sinergia tra le due strutture, il Caniglia e il Piccolo Teatro, per cui l'attore ha preso atto della scelta dell'amministrazione comunale di Sulmona e rinuncia a dare proprio contributo per la crescita culturale della città. Inutile sottolineare che si tratta di una grande perdita, vista la risonanza e l'esperienza dell'attore che poteva giovare la città che punta al titolo di capitale italiana della cultura. Secondo il piano del comune, la stagione teatrale sarà gestita anche quest'anno per il triennio dall'associazione Meta diretta da Patrizio d'Artista. Un ottimo lavoro, già sperimentato in tempi difficili, quali quelli del Covid, sia per la qualità della programmazione e della promozione, si regge nella nota del comune, sia per la complessità e articolazione della stessa, con particolare riferimento agli aspetti della produzione e della collaborazione con il territorio e i siti scolastici, il ripartimento di salute mentale dell'AS, le realtà associative. Insomma, su Il Sipario permetta che il 5 novembre avvierà la stagione con il primo spettacolo di prosa, per Cirilli invece era rimasta aperta la porta del Piccolo Teatro di Via Quadrario, dove si potrà attivare una specie di succursale della scuola di formazione aperta a vasto e al contempo la possibilità di inserire nella programmazione gli eventi di carattere comico brillante che l'attore sulmonese aveva proposto a cadenza mensile nel suo più vasto progetto, avevano scritto dal comune, ma Cirilli non accetta una stagione a metà.